A trovarlo era stato un marinaio che si chiamava Danny Budman. Lo trovò un mattino che erano già tutti scesi a Boston. Lo trovò in una scatola di cartone. Avrà avuto dieci giorni, non di più. Neanche piangeva. Se ne stava silenzioso, con gli occhi aperti in quello scatolone. L'avevano lasciato nella sala da ballo della prima classe, sul pianoforte. Non aveva l'aria però di essere un neonato di prima classe. Quelle cose le facevano gli emigranti, di solito. Partorire di nascosto da qualche parte del ponte e poi lasciare lì i bambini. Mica per cattiveria, era miseria quella, miseria nera. Un po' come la storia dei vestiti. Salivano che avevano le pezze al culo, ognuno col suo vestito consumato dappertutto. L'unico che ci avevano. Poi però, dato che l'America era sempre l'America, li vedevi scendere, alla fine, tutti ben vestiti, con la cravatta anche, gli uomini, e i bambini con certe camicciole bianche. Insomma, ci sapevano fare. In quei venti giorni di viaggio cucivano e tagliavano. Alla fine non trovavi più una tenda sulla nave, più un lenzuolo, niente. Si erano fatti il vestito buono per l'America. A tutta la famiglia. Potevi mica dirgli niente. Insomma, ogni tanto ci scappava anche il bambino, che per un emigrante è una bocca in più da sfamare e un sacco di grane all'ufficio immigrazione. Li lasciavano sulla nave, in cambio delle tende e delle lenzuola, in certo senso. Con quel bambino doveva essere andata così. Dovevano essersi fatti un ragionamento. Se lo lasciamo sul pianoforte a coda, nella sala da ballo di prima classe, magari lo prende qualche riccone e sarà felice tutta la vita. Era un buon piano. Funzionò a metà. Non diventò ricco, ma pianista sì. Il migliore. Giuro, il migliore. Comunque, il vecchio Budman lo trovò là. Cercò qualcosa che dicesse chi era, ma trovò solo una scritta sul cartone della scatola, stampata con inchiostro blu. T.D. Limoni. C'era anche una specie di disegno di un limone. Blu anche lui. Danny era un negro di Filadelfia, un gigante d'uomo che era una meraviglia. Pegliò il bambino in braccio e gli disse «Hello, Lemon!» e gli scattò qualcosa dentro, qualcosa come la sensazione che era diventato padre. Per tutta la vita continuò a sostenere che quel T.D. significava evidentemente «Thanks, Danny!» «Grazie, Danny!» Era assurdo, ma lui ci credeva davvero. L'avevano lasciato lì per lui, quel bambino. Ne era convinto. T.D. «Thanks, Danny!» Un giorno gli portarono un giornale su cui c'era la reclame di un uomo con un faccione idiota e dei baffi fini fini da latin lover. E c'era disegnato un limone, grande così, e vicino la scritta diceva «Tano D'Amato, il re dei limoni!» «Tano D'Amato, limoni da re!» e non so quale attestato o premio o cosa «Tano D'Amato!» Il vecchio Budman non fece una piega. «Chi è questo frocio?» chiese e si fece dare il giornale perché di fianco alla reclame c'erano i risultati delle corse. Non che ci giocasse alle corse. Gli piacevano i nomi dei cavalli, tutto lì. Aveva una vera passione. Ti diceva sempre «Senti questo, questo qui, ha corso ieri a Cleveland, senti qua. L'hanno chiamato Cerchi Grane. Capisci? Ma è possibile. E questo, guarda, meglio prima. Non c'è da morire. Insomma, gli piacevano i nomi dei cavalli. C'aveva questa passione. Di chi vinceva non gliene importava un cazzo. Erano i nomi che gli piacevano. A quel bambino incominciò a dare il suo di nome Danny Budman. L'unica vanità che si concesse in tutta la vita. Poi ci aggiunse T. D. Lemon. Proprio uguale alla scritta che c'era sulla scatola di cartone perché diceva che faceva fine avere delle lettere in mezzo al nome. Tutti gli avvocati ce l'hanno. Confermò Barty Bunn, un macchinista che era finito in galera grazie a un avvocato che si chiamava John P. T. K. Wonder. Se fa l'avvocato, lo ammazzo. sentenziò il vecchio Budman. Però poi le due iniziali ce le lasciò nel nome e così venne fuori Danny Budman T. D. Lemon. Era un bel nome. Lo studierono un po', ripetendolo a bassa voce, il vecchio Danny e gli altri giù in sala macchine, con le macchine spente a mollo nel porto di Boston. Un bel nome, disse alla fine il vecchio Budman. Però gli manca qualcosa. Gli manca un gran finale. Era vero. Gli mancava un gran finale. Aggiungiamo Martedì, disse Sam Stahl, che faceva il cameriere. L'hai trovato Martedì? Chiamalo Martedì. Danny ci pensò un po'. Poi sorrise. È un'idea buona, Sam. L'ho trovato nel primo anno di questo nuovo fottutissimo secolo, no? Lo chiamerò Novecento. 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 Ma è un numero. Era un numero. Adesso è un nome. Danny Budman T. D. Lemon Novecento. È perfetto. È bellissimo. Un gran nome, Cristo. Davvero un gran nome. Andrà lontano con un nome così. Si chinarono sulla scatola di cartone. Danny Budman T. D. Lemon Novecento li guardò e sorrise. Loro rimasero di stucco. Nessuno si aspettava che un bambino così piccolo potesse fare tutta quella merda. grazie a tutti.